E' stata prorogata fino al 16 gennaio a Palazzo Lascaris la mostra a matite di guerra, satire e propaganda in Europa 1914-1918, vignette satiriche sulla prima guerra mondiale. La mostra, promossa dal Consiglio regionale della consulta europea, è curata da Dino Aloi e raccoglie giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa.